Benvenuti a tutti e a tutte sul canale nuovo video svuota la spesa cop come vedete abbiamo un ospite d'eccezione che è la Odri ciao Odri saluta eccola qua niente partiamo subito col farvi vedere quello che ho acquistato innanzitutto ho preso un cestello di acqua naturale che vedete qua in terra che è la Martina e ora svuotiamo insieme il contenuto delle borse allora ho preso queste crocchine golose con bollo della Viscas per le piccine ultimamente mi fanno un po' di storia con il cibo poi un sacchetto cop che io prendo per il riciclaggio ho acquistato questo vetri multiuso della linea Vivi Verde Cop che mi mancava ho preso due di queste tartare della Fiorfiore Cop di Bovino Adulto che sono buonissime non le abbiamo già prese e ci piacciono un sacco quindi stasera cena fatta tartare poi ho preso questa tagliata di pollo chicken salad della Aya la Audrey come vedete apprezza la tartare ho preso una confezione di cioccoli poi questo è proprio uno svuota in diretta non l'ho svuotata prima perché sono arrivata a ora ho detto lo svuoto insieme e poi metto via tutto poi ho comprato queste carottine baby della Cop da mangiare con l'hummus che io adoro carotte e mousse poi ho preso della feta greca da condire i pomodori stasera insieme alla tartare farò pomodori, feta greca e olive della Riviera Ligure e Taggiosche sono già denocciolate quindi sono comodissime poi ho preso questo yogurt della Yomul Delta 0% di grassi alla fragola ne ho presi due, vediamo se l'altro è qua o nell'altra busta no, qua abbiamo una pappina gourmet Diamant quella con polpa di tonno in salsa per le piccine ne ho preso una sola perché sono piene di pappa e tra l'altro ultimamente come vi dicevo mi fanno un po' di storie mangiano solo crocchette la carne e me la chiedono, ne mangiano due pezzettini e poi basta quindi vediamo un po' poi ho preso questi spaghettini Barilla cottura 5 minuti a noi piacciono quelli veloci poi ho preso questa bottiglia di aranciata San Pellegrino 0 quella con 0 calorie e ho preso un Kinder Bueno e prima busta svuotata tutta poi, ah vi dico che ho speso di tutto non trovo lo scontrino come al solito comunque 38 euro è qualcosa poi ho preso questa asciugatutto Scottex della Copp qui abbiamo l'altra Tartar ho preso 4 pesche nettarine queste qua le noci bianche che ci piacciono un sacco un po' di frutta fa sempre bene altro sacchetto Coop eccolo qua lo scontrino ho speso 38 euro e 26 centesimi poi abbiamo un faghe bianco quello Total Zero l'altro Delta sempre alla fragola un ketchup il tomato ketchup della Enz che adoriamo questo è quello con 50% in meno di zucchero e sale è nuovo, credo non l'ho mai visto e poi ho preso le Aribu coccodrilli si mi direte prendi il ketchup senza a ridotto contenuto di sale e zucchero compri quelle vabbè, si è un controsenso però mi sento bene in colpa e niente questa è tutta la mia spesa di oggi alla Copp Odri saluta saluta tutti che salutiamo e niente spero che il video vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale mettete un bel like al video e noi come al solito ci vedremo al prossimo video ciao